A Cerignola sono le mura stesse della cattedrale di San Pietro Apostolo, conosciuta come Duomo Tonti, a chiedere il suo intervento, il suo restauro. Un primo intervento di manutenzione straordinaria potrà partire grazie alla somma di 300 mila euro stanziati dall'ente comunale. La delibera di giunta è stata approvata nella seduta del 28 marzo a proporla il primo cittadino Francesco Bonito. In totale l'importo dei lavori previsti è di circa 1,5 milioni di euro, opere di riqualificazione che saranno eseguite sulla base del progetto redatto dai tecnici della Curia Vescovile. Il primo lotto si focalizzerà sul restauro della cupola con l'obiettivo di renderla accessibile al pubblico in modo da rafforzare la funzione di attrattore turistico del Duomo, che deve il suo nome a Paolo Tonti, ricco possidente, il quale donò le sue ricchezze per la costruzione dello stesso, la posa della prima pietra il 29 giugno del 1873. Una volta avviati gli interventi, spiega il sindaco di Cerignola, è il nostro intento a cogliere ogni opportunità di accesso a finanziamenti regionali, statali ed europei, che alleggeriscano il peso della spesa a carico del bilancio comunale.